Dicevano che non si poteva fare, aumentare l'attività cellulare utilizzando la luce, con una tecnologia indossabile come questa. Non c'è modo. Ma loro non conoscevano questo inventore, David Schmidt, fondatore e amministratore delegato di LifeWave, che ha reso possibile ciò che gli altri ritenevano impossibile. L'impegno di David di attingere alla nostra energia umana naturale a livello cellulare, senza farmaci o stimolanti, ha portato il lancio di LifeWave nei primi anni 2000. La sua missione? Condividere con il mondo prodotti che migliorano la salute, il benessere, la bellezza e la longevità delle persone, senza farmaci. Oggi, dopo innumerevoli studi clinici, è una scienza accettata e LifeWave è in prima linea in tutto. La grande occasione è arrivata nel 2004 durante le prove olimpiche degli Stati Uniti, dove le nuotatrici dell'It, sotto l'icona dell'allenatore della NCAA e sostenitore di LifeWave, Richard Quick, stavano stabilendo i propri record utilizzando gli Energy Enhancer di LifeWave, il nostro primo prodotto. La voce si è sparsa, sono seguite polemiche guidate da scettici, ma LifeWave ha dimostrato di essere una tecnologia sicura e non farmacologica. È giunta un'ondata di interesse, da atleti professionisti, istruttori, professionisti della salute, scienziati e persone comuni, scoprendo che le cose andavano meglio con LifeWave. Più energia, più resistenza, più entusiasmo per la vita. Ma David non si è fermato qui. Ha perfezionato la scienza, inventando nuovi modi per ridurre il dolore, per migliorare il sonno, per sbarazzarsi dello stress e altro ancora. Tutto senza farmaci. Sono seguite storie nazionali, interviste e partnership con celebrità. Le persone di altri paesi hanno sentito parlare dei prodotti tecnologici unici di LifeWave per la salute, il benessere e le prestazioni, e ha iniziato un'ondata di crescita internazionale. Dopotutto, quando ti senti benissimo, si vede, in qualsiasi lingua. E poi è successo. Hai sentito parlare della teoria del Big Bang? Il Big Bang di LifeWave non è stato una teoria, e ha cambiato tutto. Era l'estate del 2018. Le cellule staminali e la crescente consapevolezza del loro valore, sempre crescente all'interno del corpo umano, hanno fatto notizia in tutto il mondo. Ma da più di dieci anni, David Schmidt stava già studiando il processo di invecchiamento dei nostri corpi e in che modo le cellule staminali potevano aiutare. Si è concentrato su ciò che era possibile nell'attivazione delle cellule staminali esistenti, e poi ha scoperto come utilizzare la tecnologia LifeWave per elevare un peptide di rame già provato, con decenni di ricerca alle spalle, per attivare le cellule staminali senza iniezioni. E il resto è storia. Nasce il Cerotto X39. Quando il Cerotto X39 è stato lanciato all'inizio del 2019, la risposta è stata sorprendente. Le testimonianze sono arrivate. Oggi ha dimostrato di essere un'invenzione che ha preso d'assalto il mondo della salute e del benessere e sta cambiando ovunque la vita delle persone. Di conseguenza, LifeWave sta crescendo rapidamente. David afferma che l'X39 è il suo miglior risultato finora. Il mondo si sta trasformando in LifeWave. Distribuzioni in oltre 100 paesi, più di 80 studi clinici di ricerca e pubblicati, oltre 100 brevetti depositati e rilasciati in tutto il mondo da David, di cui oltre 70 nel campo della scienza rigenerativa, con zero competizione. Cosa significa tutto questo? Se è la prima volta che senti parlare di LifeWave, ti trovi a un bivio. L'opportunità per te di trarre profitto dalla nostra crescita accelerata è ora. Sarai tra chi ne trarrà vantaggio. LifeWave è affermata, testata, all'inizio di qualcosa di grande, davvero grande. E anche tu sei sulla soglia. Puoi aiutare le persone a scoprire quanto sia bello sentirsi di nuovo alla grande con LifeWave. Questa è la definizione di opportunità. Questa è LifeWave.